Finanziamenti per un ammontare di 1.115.000 euro per la messa in sicurezza di alcuni torrenti del territorio Saccense. Sono i fondi a suo tempo previsti a seguito dell'alluvione del 25 novembre del 2016. Con ordinanza commissariale del Dipartimento regionale di protezione civile è stata infatti approvata a distanza di un anno la copertura finanziaria del piano di interventi affidati al soggetto attuatore, ossia la protezione civile di Palermo, con a capo l'ingegnere Calogero Foti, dirigente generale del Dipartimento. Il piano evidenzia oggi l'amministrazione e prevede l'espletamento di una serie di attività relative agli interventi di sommorgenza ad attuare nel territorio di Sciacca, mirate al ripristino delle condizioni di sicurezza che riguardano la sistemazione spondale e pulizia del torrente Bagni per un importo di 375 mila euro, la sistemazione della foce del torrente Bellapietra per la riduzione dei rischi idraulici residuali per un ammontare di 200 mila euro, la sistemazione del ponticello di Contrada Raganella sul ponte Baiata per 90 mila euro e la pulizia per la messa in sicurezza del torrente Can Salamone con la realizzazione di una vasca di calma per la riduzione del rischio esondazione. In questo caso il finanziamento ammonta a 490 mila euro. Il soggetto attuatore individuato nella struttura dipartimentale della protezione civile di Palermo evidenzia oggi l'amministrazione, provvederà per le vie brevi a individuare le figure dei responsabili dei procedimenti e della progettazione esecutiva per poi avviare le procedure per la realizzazione degli interventi di sommorgenza per la messa in sicurezza dei rischi idraulici del nostro territorio.